Quattro appuntamenti per discutere della riforma costituzionale del referendum di ottobre con docenti universitari e costituzionalisti per affrontare la questione da un punto di vista esclusivamente tecnico e nel merito, mettendo a confronto diversi punti di vista e senza schieramenti precostituiti. E l'obiettivo del programma di incontri del Tour della Costituzione illustrato oggi a Potenza nel corso di una conferenza stampa dal consigliere regionale Mario Polese e dai docenti universitari Sandro Stajano ed Emilio Pagano. Il professor Stajano sarà uno dei relatori di questo Tour della Costituzione che il consigliere regionale polese ha un po' attivato per mettere in condizione i cittadini rucani di conoscere i termini veri della situazione e regolarsi per il prossimo referendum. Un referendum importante? Sì, è un referendum importante su un testo molto articolato, molto differenziato al suo interno e che quindi richiede un giudizio di merito quanto più possibile avvertito e approfondito. Questo referendum interviene in una fase in cui vi è una forte radicalizzazione delle posizioni in cui vi è il rischio che assuma un assetto di tipo plebiscitario su una persona o su una linea politica. In realtà il referendum è un'ottima occasione di partecipazione democratica se invece viene messo in opera attraverso una conoscenza approfondita del merito delle questioni. Nonostante che la mia posizione sia chiarissima ed esplicitata sul sì, ho pensato fosse opportuno mettere in campo a latere delle manifestazioni sul sì un tour di grande qualità con docenti universitari di chiara fama nazionale e anche internazionale sul tema che senza preordinare una posizione esplicita non posso nel merito spiegare i passaggi salienti della riforma in quattro tappe in tutta la regione proprio perché la Costituzione è una cosa troppo seria per derubricarla una sfida pro o contro qualcuno. Gli incontri si svolgeranno a Melfi il 20 luglio, a Maratea il 26 agosto, a Potenza il 14 settembre e a Matera il 28 settembre.